il prossimo ospite della prossima puntata di stories è achille lauro benvenuto laura tutto bene troppo gentili tutto bene allora un nuovo pezzo che sarà una una ballad una ballad da cantare proprio a squarciagola si è assolutamente una ballad un pezzo serio che appunto riprende un po la mia anima di questi anni e c'è una precisa citazione di ricchi e poveri chiaramente è chiaro